Salve a te ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Bond Channel e oggi siamo qui su Clash of Clans Guardate ragazzi, sto col di cuffie, quindi c'è un video un po' particolare, c'è un video un po' particolare e poi non portavo Clash of Clans da tanto tempo quindi alcuni di voi, alcuni miei amici di classe mi hanno detto porta Clash of Clans sul tuo canale perché io lo voglio vedere quindi saluto Vincenzo, che non posso dire il cognome ovviamente, che mi ha consigliato se lo potevo, che mi ha detto se lo potevo fare Clash of Clans quindi l'ho portato sul canale, poi allora, ho bisogno un po' di oro, raga, ovviamente qua è schifo eh, allora, quanto, eh raga, ho misso il touch misso il touch perché il touch è davvero fighissimo no, non voglio arcieri voglio i nostri gigantoni gigantoni giganti, giganti, anzi vai con tutti i giganti, vai vai con tutti i giganti vai Bond dai andiamo a spaccare eh vabbè no c'è, a parte che ho portato due volte che ho da quanto tempo che ho portato Clash of Clans c'è di quando e roba sui iscritti da quanto tempo che ho portato Clash of Clans madonna mia sono davvero un sacco che ho portato Clash of Clans allora questo è un tirale muro questo è un coglione quindi no annaggia vabbè è almeno una piccola tecnica ok adesso io mettiamo i barbari così perché mi mandate i messaggi mentre registro io devo disattivare le notifiche quando registro il video e poi le reattivo cioè è incredibile proprio cioè è proprio incredibile allora dai 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 perfetto spaccateli spaccateli dai 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 ok raga basta che abbiamo levato il mortaio forse le tre stelle le possiamo fare guardate il villaggio di sto tizio ovviamente scusatemi per il taglio però era successo una piccola cosa questo ha anche la casa delle gemme perché non tiravi la casa vabbè raga questo sarà uno di quegli inattivi che non giocano da tanto tempo quindi raga c'è sta musichetta intanto che attaccano io levo sta musichetta oh si era messa nelle orecchie madonna mia ok perfetto dai con 50 vabbè raga è fatta cioè non c'è nessuno non c'è nessuna di pesa quindi possiamo andare tranquilli allora dai però si devono muovere cioè vabbè il municipio proprio due stelle proprio fatte in un'unione incredibile però così ne abbiamo fatto tre stelle ciao e manca un minuto quindi non vi assicuro proprio la vittoria per piacere per piacere raga ha mille di vita questo coso lo vedete questo 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 coso è un cassero del clan che ha mille di vita perché se non buttiamo il cassero del clan bravi barbari raga dobbiamo contare dove stanno andando tornate subito indietro torna madonna mia tornate subito indietro dai dai mamma mia abbiamo vinto 27 secondi dalla fine abbiamo vinto anche questo attacco con i nostri barbari livello 2 ci andiamo a portare 100% di stelle delle risorse ne abbiamo tante ci andiamo a potenziare niente ancora non ci possiamo potenziare niente ancora intanto no non lo voglio fare vediamo ricerca laboratorio livello 3 tutto laboratorio livello 3 livello 2 eh vabbè allora e ne tenavamo 56 gemme aia non siamo in un clan ah si giusto il clan bonchan e la raga nessuno ancora è entrato nessuno ancora è entrato noi intanto scriviamo un messaggio ciao ciao raga si perfetto ok allora allora raga per chi si chiede no non è vero che se il clan non ha mille di vita ah vabbè quello che volete voi non mi sono info punti vita a mille a livello 1 madonna mia raga per potenzione a livello 2 ci vogliono ben sì centomila allora raga sul mio primo profilo io tengo un milione però il mio primo profilo era il mio telefono vecchio l'iphone 4s e quel telefono si è andato a fottere però fa niente raga voglio andare su impostazioni voglio cambiare il nome sì davvero butto davvero butto butto quindi noi mettiamo musica lingua e cambia nome dai puoi cambiare i nomi per il 5 allora mi chiamo Emanuele perché questo è il mio nome quindi avete scoperto il mio nome quindi sì 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 basta allora abbiamo qualcosa da ritirare tesoreria sì che abbiamo da ritirare sì che abbiamo da ritirare adesso ci possiamo potenziare un po' di roba noi ci miglioriamo che casa ti vuole che casa vuoi raga abbiamo mischiato abbiamo fatto scherzo mai epico sì finito male guardate da 5.000 risorse guardate da quante poche risorse siamo andati cioè è una cosa incredibile va bene raga il video può finire qui se vi è piaciuto lasciate like intanto vi faccio le truppe per il prossimo episodio e poi ci vediamo ad un prossimo video fia fia